Per Rete Zero con Enrico Somma, giornalista senza giacca e cravatta. Originario di? Partinico, il paese di Frank Coppola, ma anche il paese di Santi Savarino, senatore della Repubblica, nonché autore di lettere indirizzate a Frank Coppola, ma di Danilo Dolci, in particolare patria adottiva assieme a Trappeto il Borgo di Dio, della cui amicizia ci stanno anche le ultime parole in punto di morte che solo io credo pubblicare in articoli in prima pagina sulla Sicilia di Catania per due anni consecutivi, sintetizzando il suo pensiero, il suo impegno che aveva coinvolto il paese di Partinico in quelle battaglie, per cui lui fu condannato nel processo per l'articolo 4 della Costituzione insieme ai sindacalisti e ai compagni comunisti eretici di Partinico come Colaggia Raci, a cui io feci intitolare una sezione a Partinico nella veste di segretario io del partito dei comunisti italiani. E direi anche il paese Vittorio Emanuele Orlando, che nel collegio di Partinico-Morreale prendeva il 98% dei voti validi. E già docente di italiano, latino... Anche per questo io sono un giornalista senza giacca e cravatta, credo come te, non solo perché un giudice, un GIP, si inventò la legge sulla giacca e cravatta per farmi rinviare a giudizio su un articolo veridico in ogni sua parte su questioni che riguardavano parenti del Ministro dei Lavori Pubblici e della mafia. Tra l'altro, essendoci Caselli e Grasso, perché era quella la procura di Caselli e Grasso che avevano scritto queste cose qui. Tra l'altro con controfirma di Pignatone, che era giunto a quei tempi, e tuttavia sono stato processato per un articolo, perché un GIP si inventò la legge sulla giacca e cravatta. Poi fu prosciolto dal giudice Morosini, un giudice antemafia, che gli faceva scattare la calunnia a una parente del Ministro dei Lavori Pubblici. della mafia si riforma una sentenza con false dichiarazioni, lo posso dire perché l'ho pubblicato e l'ho denunciato in mille salse, dell'avvocato del Ministro dei Lavori Pubblici e della mafia, che insieme a Orlando, il sindaco della primavera di Palermo, attaccava Falcone alla vigilia delle stragi, perché indagava sugli piccoli appalti che finivano agli amici dei consiglieri comunali, Ciancimino, il sindaco mafioso di Palermo, che sosteneva la primavera di Palermo di Orlando e di Galasso, deputato della rete. Ma se dovessimo ricordare quell'episodio in cui fu inaugurata la leggenda del giornalista senza giacca e cravatta, vogliamo ricordarlo quell'episodio? Eh sì, era un 12 luglio di Scirocco Palermetano, non di Roma, di Palermetano. Ebbene, io non dovevo neanche entrare perché ho visto che sto GIP era chiaramente nelle mani di Galasso, l'avvocato del Ministro dei Lavori Pubblici e della mafia e dei suoi parenti, per un articolo su cui c'erano già richieste reiterate di archiviazione alla procura di Caselli e Grasso, con controfirma di Pignatone, e voglio ricordare anche il Pubblico Ministero titolare Sanda Recchiona, il bravissimo magistrato che oggi è a Torino. Ebbene, insomma, cose incredibili, il Pubblico Ministero di turno quel giorno era assente. Questo GIP fa entrare tutti in una sala di consiglio penale a Port, che doveva essere a Porta, ebbene, centinaia di persone lì tra avvocati, imputati, qualcuno in manetta, eccetera, eccetera, e io, insomma, che non dovevo neanche entrare perché l'avevo visto che questo GIP ce l'aveva con me. E però, insomma, entrai pure io e mi mise all'ultimo banco dietro tutti gli avvocati che mi copivano. Ebbene, questo giudice a un certo punto si mette a cercare il professore Galasso, ma come non c'è, e l'altro avvocato, si chiamava Oddo, ma non c'è, e la signora Bertonella, cognata del Ministro della Repubblica della mafia, figlia di uno che, a tiro Bozzoni, definì, ex-autista di Al Capone, però poi fu querelato, poi alla fine, insomma, tutto fu archiviato, credo si mesero d'accordo, insomma, come si dice, si fa in certe situazioni, con una bellissima intervista a tre pagine in cui Repubblica, l'edizione di Palermo, fece dire tutto quello che voleva la signora, la signora dell'alcol. Ebbene, su queste vicende, su cui c'è l'inquinamento del bar colore del vino, su cui io forse ero l'unico a scrivere queste cose, tra l'altro, scrivevo prima sul giornale Sicilia, o me la facevano scrivere, sull'ora neanche, perché non se ne poteva parlare, c'era anche in qualche modo il PC, perché all'Unipol, l'assicurazione, all'Unipol aveva assicurato, c'erano assicurate all'Unipol queste distillerie di tutto il mondo, anche in Russia, a quanto pare, in Spagna, eccetera, eccetera, insomma, dei parenti all'ex ministro della Repubblica della mafia, e Napoletano che organizzò come responsabile della politica meridionale del PC un incontro con gli operai, trovando l'accordo, queste cose che io le ho pubblicate in questi miei libri di questi ultimi tre anni. Di cui parleremo fra poco. Di cui parliamo tra poco. Sono cose pubblicate che riguardano anche l'interrogatorio di Napoletano, tra l'altro. Io chiedo a tutti i giornalisti da presenti, ma lo sapete che c'è un cugino di Signino che ha voluto essere presente, e gli altri che non volevano che ci fosse nessun giornalista nazionale, c'erano pure Bolzoni, si rimase a chiacchierare con Attilio Bolzoni e con Lodato, i due maggiori, ma c'era pure Bianconi del Corriere della Sera. Cioè i più grandi giornalisti di giudiziaria, nessuno che ha voluto trattare questo punto che io gli sottolineavo davanti al Quirinale, c'era una curiosità, e dico ma c'è un cugino di Signino con i suoi colleghi che gli dicono tu qui non ci deve essere, c'è stata la polemica pubblicata anche con fotografia che io ho sull'ora di queste vicende qui. Ebbene, questi non i tabù, lo scandalo del CSM che io ho anticipato. Prima in questo potrebbe il CSM illuminare una sospetta trattativa pubblicamente denunciata, uscì assieme ai tabù delle mafie due giorni dopo e oggi lo sviluppo nell'internazionale mafiosa. Enrico, ma torniamo un attimo dal mare color del vino a quell'aula di Ribunale in cui a un certo punto il GIP chiede ma c'è per caso il giornalista Enrico Suma? Sì, no, ma il bello è che dopo aver cercato la titina che non c'era nell'avvocato, nella cognata di Sino, nell'altro avvocato, appena parla il mio avvocato e dov'è il giornalista? Ma forse è qui, il 12 luglio di Scirocco, Palermetano. io alzo il ditino facendo spostare gli avvocati davanti a me che ero coperto avvocati di mezza cosa e nessuno insomma che doveva starci perché doveva essere approfittando dell'assenza del PM. Cioè so cose... Quindi si era creata una scena paradossale alla Pirandello, alla Martoglio, tutti lì dentro senza riservatezza. Il codice pedale, il codice di procedura pedale è calpestato sotto i piedi da un giudice delle indagini preliminari che chiaramente dimostrava il suo interesse e la sua dipendente che era stata tra l'altro guardacaso nominata docente nella scuola diretta dall'avvocato dall'avvocato del ministro della Repubblica della mafia che dirigeva la scuola di formazione che seleziona a numero chiuso i candidati a magistratura. Dov'è il giornalista ed ecco che appare in rio Somma. Sono qui. Sono qui. Ma è incredibile. Ebbene questo le fa... Come si permette? Avevo solo alzato la mano. Ho detto questo ho fatto. Si alzi e mi alzo e dico ma forse per il bisogno perché non mi sono alzato subito. Senza giacca e senza cravatta. Ma c'è una legge il mio avvocato non me l'ha detto. Avvocato non gliel'ha detto che c'è. L'avvocato e vedete come risponde Martoglio e Pirandello non mi occupo dell'abbigliamento dei miei assistiti. Io poi tra l'altro gli chiesi ma c'è la legge e tu non me l'hai detto che c'è la legge ma quale è la legge dice abbigliamento consono. Ora il 12 luglio che avevo una camicia nuova nuova di zecca eh non di bucato nuova nuova e pantaloni nuovi tutto nuovo tutto nuovo persino persino le calze tutte le mutandine insomma queste cose qua dovevo andare in giacca e cravatta e nasce lì il mito del giornalista di giacca e cravatta che tu a questo punto usi proprio nei tuoi libri come esatto io sono sempre quello sempre quello sei tu senti essenzialmente sostanzialmente facciamo capire qualcosa ai nostri spettatori eh per comprendere che Enrico Somma a un certo punto comincia a scrivere dei libri in cui racconta quelle verità che ma io non ho fatto altro che mettere in qualche modo diciamo applicare semplicemente le lezioni di Danilo Dolci e di Peppino Impastato in maniera molto più moderata tra l'altro perché Danilo Dolci denunciava denunciava chi? i mafiosi che salivano sul palco dei politici per lo più dalla democrazia cristiana e fu processato i famosi processi mafia e politica degli anni 60 e 70 e poi il processo all'articolo 4 della Costituzione perché organizzò uno show per la rovescia lui mi disse una volta quando io presentai uno dei suoi libri in cui tra l'altro lui parlava anche di me ebbene gli disse ma tu non fai altro che raccontare come il bambino che vede il re nudo quello che ha la vista di tutti e che tutti invece non osano parlare sì mi disse ma io niente facevo di male dicevo semplicemente le cose che mi raccontavano tutte le persone lì e mi hanno processato e condannato perché una cosa che molti dicono è che Daniel Olci sarebbe stato condannato almeno nel processo all'articolo 4 della Costituzione no lui fu assolto per merito di Pietro Calamandrei tra l'altro e dalle accuse più gravi di sovversione dell'ortenismo ma fu condannato anche se appena diciamo di multa eccetera eccetera per occupazione del suo cose ridicole per uno show passato nella storia dell'Italia così come fu condannato per diffamazione del senatore Messeri e altri insomma non facciamo altri nomi ma andiamo ad analizzare i libri libro per libro con una breve sostanza poi invitando i nostri spettatori a leggere di questi libri però facciamo capire Enrico Somma giornalista senza gravatta potrebbe il CSM illuminare una sospetta rattativa pubblicamente denunciata nel 2000? pubblicamente denunciata nel 2000 non da me ma in convegni tanti convegni l'ultimo dei quali diciamo con tutti i partiti politici di Partenico rappresentati in Parlamento tranne quello di Cuffaro non è quello di Cuffaro condannato per mafia ebbene io non ho fatto altro che scrivere queste cose qui e soprattutto una cosa un tabù che poi c'è l'altro di tabù della mafia ma il primo tabù è che un cugino di Sino saliva ai vertici della procura di Palermo ed era vietato ed è vietato anche oggi dirlo dopo che si è andato in pensione senza peraltro essere riuscito a diventare procuratore della Repubblica mentre invece si decurtava perché lui diventasse aggiunto e poi procuratore facente funzione ma non titolare il punteggio ad altri due che poi hanno vinto un ricorso al Tarre al Consiglio di Stato perché quella decurtazione del CSM l'aveva fatta per carenza di motivazioni tant'è vero che il procuratore Cartosio sostituto ai tempi rilascia un'intervista così il CSM mi ha umiliato su una rivista antemafia intitolata S di Palermo ebbene il procuratore Cartosio c'è diventato procuratore il cugino di Sino non c'è riuscito ad essere andato in pensione probabilmente subito dopo la pubblicazione di questo dove io ho denunciato queste vergogne tant'è che è appena uscito questo mio libro che pochissimi hanno letto ma certamente l'hanno letto in ambiente giudiziario perché io ho denunciato queste cose pure dal CSM ebbene 300 magistrati si cancellano la corrente aria la corrente aria che aveva vinto le precedenti elezioni per l'ultima volta insieme a magistratura democratica e che ora cerca di approfittare per risalire un po' sulla scena visto il recente scandalo che in sostanza non è che la replica di questo cioè di tutti i maneggi che si fanno per nominare procuratore della Repubblica le persone che poi ti impediscono di portare avanti i processi che i cittadini denunciano anche per motivi di mafia contro personaggi troppo sono dichiarazioni forti Enrico queste ma guarda io queste cose le ho denunciate assieme anche ora c'è un'associazione di vittime di mafia che come me denuncia queste fatte cioè l'insabbiamento di tutti i procedimenti anche di mafia di cittadini che come me quando poi denuncio per calunnia dopo essere stato assolto dopo dieci anni di processo in primo grado io credo che sia un record essere stato assolto per un processo di diffamazione in primo grado dopo dieci anni dopo essere stato prosciolto con tre richieste di archiviazione tra l'altro la procura che diceva le stesse cose mie che mi hanno orato pure con scarpinato che poi è stato sottoposto pure a procedimento disciplinare per aver detto delle cose insomma che io gli ho segnalato in via d'Amelio tra l'altro nell'ultimo anniversario della staggia di mia riferia dove tu mi hai intervistato sono cose incredibili cioè io ho i più importanti di prestigio magistrati d'Italia che mi hanno onorato e per fortuna che abbiamo questi magistrati Scarpinato Morosini Pignatone li lengono poi sono Teresi Teresi che redarguì il GIP che si inventò la legge su una precedente per invadere le prerogative del titolare dell'azione penale non l'ho detto io ma un procuratore come Teresi a cui ho donato con dedica questo libro sui tabù e lui mi ha detto ah mi ricordo benissimo così come me l'ha scritto pure anche il pubblico ministero Recchione che ora è a Torino cioè per fortuna che noi abbiamo almeno il 50% di magistrati onesti e di coraggio come Falcone e Borsellino ma probabilmente ce n'è un altro 40 o 50% che sono nelle mani anche della mafia cioè non è possibile che sia successo che io poi ho denunciato queste cose al CSM ma hanno archiviato tutto io denuncio 10 magistrati tra cui il Cugino mi archiviano tutto sorvolando su tutto su tutto neanche hanno preso in considerazione l'incompatibilità ambientale perché ancora era era a Palermo essendo rimasto procuratore anche nel procedimento in cui ero parte offesa per calunnia i tabù delle mafie se dovessi dirli proprio così in 30 secondi quali sono i grandi tabù e appunto i tabù delle mafie e non toccare certe questioni in particolare l'insabbiamento di procedimenti anche di mafia col modello cosiddetto modello 45 tu denunci un mafioso e ti dicono ma qui non c'è il reato e ti scompare il procedimento e non sono io l'unico che denuncio queste cose queste cose succedono quei libri comunque sono stati pubblicati dell'Europa Edizione e sono ancora ordinabili in libreria perché sono ancora in stampa con Europa Edizione questo di oggi sviluppa sul piano internazionale questi tabù tra cui la mafia internazionale che poi io da marxista ed esponente politico perché sono un giornalista che purtroppo non si limitava a raccontare la notizia senza mai commentarla no perché commentare la notizia secondo i giornalisti di regime è reato ma come si fa a considerare il reato perché ti condannano pure i magistrati appena tu dici una paroletta di giudizio sull'operato di un magistrato su certe sentenze dove magari si scrive che l'asino vola e tu non puoi non puoi assolutamente contestare che l'asino vola perché è scritto in una sentenza cioè siamo così in Italia e i giornalisti con la giacca e cravatta ed il regime io dico tra cui non ci siamo noi che siamo professori di liceo perché io tra l'altro ero un solo amico di Aglio Dolci con Sciascia organizzai pure un convegno su Sante Savarino e c'era il più importante professore dell'università di Palermo Giuseppe Carlo Marino docente e uno dei maggiori conoscitori della storia della mafia anche della Sicilia il professor Pietro Mazzamuto autore di una delle più importanti storie della letteratura italiana la professoressa Rosa Muscarà Zappulla all'università di Catania ed Enzo Zappulla anche lui avvocato e docente pure all'università di Catania il regista a curso di Leo grande amico di Savarino che diresse il suo Don Gesualdo della ballerina perché Savarino era anche il più grande amico oltre che critico teatrale della stampa e direttore del giornale d'Italia ma il grande amico era un trio di scrittori siciliani e commediografi con Pirandello e Rosso di San Secondo e però c'è questo rapporto col fascismo e con la mafia che è anche questo un tabù nella storia d'Italia cioè siamo arrivati al punto che parlare di queste cose e di come Savarino viene eletto senatore dell'ADC in questo contesto qui ebbene è più quasi pietato l'internazionale mafiosa romanzo giornalistico se dovessi dire in poche parole per chi leggere questo libro perché? intanto book sprint edizioni che mi ha subito fatto la proposta poi mi è arrivato di nuovo anche da Europa Edizioni ma io già avendo accettato questo non potevo giustamente almeno in questo caso e perché direi che qui c'è la rilettura di tutto quello che avevo scritto precedentemente della mia esperienza ma anche dello scandalo del CSM perché anche oggi che la corrente area democratica cerca di risalire a Galla dove aver perduto le ultime due elezioni insieme a magistratura democratica e approfittare questa situazione col nuovo dirigente insomma che fa dei discorsi razzisti nel senso che guai a parlare male della delinquenza internazionale io così ne interpreto l'ultima cosa che cioè la mafia ligeriana non lo dico io lo dice il professore Meluzzi citando però Vito Palazzolo che è il più importante mafioso della finanza internazionale di Terrasini Terrasini e Cinesi insomma Peppino Impastato fu indagato pure nelle vicende Peppino Impastato poi prosciolto per carità rimasto per decenni latitante in Sudafrica in tutta l'Africa meridionale fino a quando fu preso perché fece un errore di andare a Zanzibar e lì non c'era perché in tutta l'Africa meridionale lui era coperto dai governi del Sudafrica perché era il maggiore finanziere io dico il turbo capitalismo internazionale che nei Panama Travel vede i capitali dei petrodollari degli Emirati anche e persino di Gaddafi prima che l'ammazzassero eccetera eccetera sono tutti lì per chi si va a vedere lo scandalo di Panama Travel ci trova la finanza internazionale turbo capitalistica che trova anche nei capitali della mafia nigeriana che porta in Italia le prostitute schiavizzate con il rito voodoo voodoo oltre che i trafficanti con la pancia piena di ovuli che vengono tra l'altro uccise e non riescono a defecarli nei modi corretti ma questo non lo dico io è stato anche detto in una trasmissione della Sette da un testimone di Castelle come si chiama quel paese lì della provincia di Napoli che ormai a maggioranza è abitato da nigeriani Castelvolturno è stato letto da un testimone africano e poi confermato in altre cose cioè che la pratica anche del cannibalismo è molto diffusa assieme ai riti giù giù e quelli voodoo ma soprattutto giù giù mi ha spiegato un'antropologa che io cito che è Valentina Mercurio che ha paura di pubblicare i suoi studi fatti in tutta l'Africa occidentale di lingua francese dove queste pratiche servono anche a schiavizzare le prostitute e anche i ragazzini i pusher che arrivano in Italia con la pancia piena di ovuli e il caso direi di Osegale che a quanto pare si potrebbe essere mangiato il cuore di Pamela che è l'unica parte che manca del cadavere di Pamela assieme agli intestini che sappiamo li hanno gettati nel water ma il cuore non ci sarebbe passato terribile perché manca il cuore di Pamela e questa è una ipotesi che non dico io perché in tutta l'Africa occidentale francese io ho postato nel mio Facebook o anche nelle fotografie dove la carne umana si vende clandestinalmente credo insomma un po' in tutti i mercati direi ambulanti della Nigeria ma non solo della Nigeria ma c'è internet che riporta queste foto e sono foto pubblicate dove tu vedi i cadaveri umani con la carne e in particolare dice l'antropologa Valentina Mercurio che mangiare cuore cervello e testicoli potenzia secondo questa cultura dell'Africa dell'Africa ex francese dalla Nigeria insomma fino fin quasi all'Algeria no ma comunque in tutti i paesi a sud dell'Algeria potenzierebbe le vertù virili virili umane eccetera eccetera e un solo di intelligente mi stai dicendo delle cose terribili tremendi scenari non io sto dicendo le cose di cui quest'antropologa ha paura di pubblicare le foto per esempio di abitini di pelle umana soprattutto di pelle di bambini che vengono indossati dai sacerdoti e sacerdotesse dei riti voodoo ma soprattutto giu giu che sono quelli più di magia nera mentre quelli voodoo hanno anche la magia bianca ora sono cose che si trovano anche in vario modo in vari testi di antropologia si ha paura di pubblicare in tutta questa verità che però è documentata anche da foto oltre a quelle che ha fatto vedere la dottoressa Valentina mercurio io però le ho trovate su internet e sono chiunque le può venire tutto quello che nessuno vi racconta ma che esiste basta oggi andare sul web per andare a scoprire a intercettare delle pagine oscure che però coloro che dovrebbero tutelare la legalità e difenderla ti dico che sei razzista siamo arrivati a questo punto io infatti spesso uso l'espressione pseudo progressismo cioè io che avevo la testa del partito comunista di Berlinguerre che sono stato pure dirigente nazionale di un partito comunista candidato a sindaco a parte tra i primi votati alla regione del collegio di Palermo insomma con 100 voti di differenza dal primo che poi era stato il primo dei non eletti del PC il segretario della CNA ma guarda caso la CNA che una volta era il sindacato dei comunisti artigiani ora è diventato il sindacato più vicino a Salvini cioè c'è una trasformismo non è trasformismo il trasformismo è di chi ha tradito i principi base perché pure Marchè credo anche Berlinguerre erano chiari che la lotta di classe non si può fare importando schiavi e prostitute nigerarie in questo modo qui con Palermo la Palermo di Luca Orlando piena di prostitute nigerarie la favorita ogni volta scendevo dall'auto e passavo dalla strada la favorita per prendere l'autostrada piena di prostitute nigerarie e persino i posteggiatori a Palermo i posteggiatori abusivi ormai sono tutti africani e ti fanno pagare a me mi hanno fatto pagare il pizzo due volte che sono andato al Palazzo di Giustizia davanti al Palazzo di Giustizia sulle strisce blu cioè oltre alla striscia blu al comune gli deve dare a tutti questi nigeriani davanti al Palazzo di Giustizia il pizzo ascolta hai qui con il luogo che gli ufficia il sacrificio di Isacco lui personalmente assieme a Giusto Catania che è esponente di rifondazione comunista io queste cose non le supporto da comunista cioè la religione oppure dei popoli è diventata è diventata lo strumento di vincere le elezioni ma anche a Napoli tu lo vedi con il sindaco che io stimavo tantissimo De Magistris attentato alla costituzione italiana tribunali per magistrati che cosa vuoi dire qui vedo che c'è uno studio in via di definizione che forse porterà un nuovo libro questo è un indedito dove non faccio altro che riferire le cose che anche un mio avvocato che fu pure candidato al Parlamento nel partito dei comunisti italiani di cui io ero candidato sindaco segretario della sezione di Partenico primo votato pure nel mio collegio alle provinciali eccetera eccetera insomma e bene mi disse ma questo è un attentato alla costituzione e su essere processati per un articolo verifico in ogni sua parte scritto dalla procura con proscioglimento pure eccetera eccetera con riforma di sentenza significa intaccare i principi fondamentali non è l'articolo 21 della costituzione libertà di pensiero stampa opinione ma supportata da quello che diceva la procura non perché me lo inventavo io ma perché poi c'erano i fatti tutte queste cose qui per cui si minaccevano pure i vigili urbani chissà avessero rivelato i segreti quando erano cose che avvenivano pubblicamente che venevano tutti sotto la puzza la puzza da volta a stomaco rinunciata dal sindaco dallo stesso partito della rete di Gavasso ebbene ma tutto questo ora col CSM dove abbiamo non solo quello che io dico il cugino di Sino che dirigeva la corrente area di magistratura democratica che fino a quando vinse le ultime due elezioni e che ora è in pensione e che guarda caso l'ha perduto dopo la pubblicazione del mio primo libro sul CSM potrebbe rivelare questa trattativa segreta pubblicamente denunciata da tutti i partiti politici tranne quello di 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 che è Cuffaro ebbene queste cose che oggi trovano quello che succede con questo attacco a Pignatone Pignatone è vero Scarbi che dice la mafia qui è Casamonaca ma io che vivo a Roma lo so la mafia di Casamonaca prima di arrivare a Roma mia figlia che comprava la casa dice ma qui abbiamo un Casamonaca si vuole negare che Casamonaca sono una mafia solo perché sono di origine nomade siamo arrivati a questo punto qui e si tolgono i figli alle nostre famiglie povere ma non le si tocca ai rom che per esempio li usano qui a Roma io ho paura di entrare e salire a metropolitana o in qualunque autobus perché ci sono tutti questi ragazzotti queste donne ne hanno prese tre in casa di una mia cugina a parte Nico rubando mentre c'era il morto in casa di mia cugina e poi naturalmente tutta incinta e tutte queste donne ma lì sei razzista se tu fai notare queste perché non si adottano i bambini di queste persone a quelli che fanno un figlio l'anno e sono sempre incinta stai dando una descrizione durissima 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 di tante tante evidenze e che poi io questo di questo mi lamento con il mio ex PD di cui non ho rinnovato la tessera a Salvino hanno fatto andare a potere loro ma non lo dico solo io lo dice pure Marco Rizzo che cominciava con me a Partinico affianto a me quando ero candidato sindaco anche a Corleone quando ero candidato alla provincia alla regione Enrico per chiudere questa intervista botte risposta ti faccio proprio delle domande veloci e ti chiedo delle risposte estremamente sintetiche però dobbiamo capire fino in fondo chi è Enrico Somma primo come nasce questa tua forte passione per la legalità questo tuo impegno non semplicemente fumoso a parole ma sul campo ma niente io sono uno che viveva a Partinico è cresciuto a Partinico come dice Giulio Isabella in un paese lui mi diceva di essere dirriesi e noi passeggiavamo e ci raccontavamo chi sono i capi mafie e così al mio paese noi facevamo e vedevamo a quei tempi i più importanti comizi dove c'erano sempre i mafiosi attorno e poi la distribuzione di scarpe una scarpa prima e una dopo le lezioni nelle parrocchie questa è l'indignazione che ci portò ad avvicinare Danilo Dolci e quei compagni come Colageraci che con lui organizzarono lo sciopero alla rovescia e che lo affiancaro in queste battaglie in che senso lo sciopero alla rovescia? lo sciopero alla rovescia è organizzato a Partinico negli anni 60 per cui furono processati diciamo anche degli amici di Napolitano e di Piola Torre come per esempio speciale e Colageraci eccetera eccetera Napolitano passeggiava con con Ignazio speciale a Partinico in quegli anni che c'erano queste vicende qui quindi quelle le battaglie dei comunisti eretici perché lo stesso PC diceva ma no non si può fare questo contro la lotta di classe organizzarono lo sciopero in cui i lavoratori aggiustavano una strada la famosa trazziera vecchia senza soldi per dimostrare che qui il lavoro c'è non manca il lavoro perché non si fanno lavorare la gente disoccupata che con picco e pala diceva Colageraci è disposta a fare qualunque cosa ebbene furono tutti processati per sorversione dell'ordine pubblico i più terribili reati insomma assolti per merito dai più gravi reati anche per merito di Piero Calabendria Ernesto Rossi venne pure a fare un intervento e però condannati per pene irrisorio occupazione del suo pubblico e cose di questo senti e velocemente definizione ti do alcuni personaggi Giovanni Falcone Giovanni Falcone insieme a Borsellino sono semplicemente dei siciliani come me che erano cresciuti uno alla cassa tutte e due credo alla cassa però tra di loro non c'era c'erano anni di differenza non appartenevano alla stessa generazione credo che cosa fosse un pochino di età più grande Borsellino e c'era una diversa posizione anche politica perché sappiamo che Borsellino era più di destra e Falcone era più di sinistra tutte e due non facevano semplicemente come diceva Rivo Dolce ma qui c'è il re nudo per questo io credo che la Sicilia ha la più grande cultura del mondo in tema anche di lotta alla mafia perché noi sappiamo che cos'è la mafia è una cosa che basterebbe come diceva anche mio nonno che so che ebbe problemi con la mafia di dirgli semplicemente in bacia ma tu come ti permetti so che a mio nonno gli chiesero il conto perché aveva affettato un magazzino senza passargli il permesso dice ma tu sei il proprietario e questo negli anni di Mori e Mori lo sapete che Mori viene defenestrato non appena il più importante fondatore del partito fascista in Sicilia Alfredo Cucco medico eccetera eccetera viene assolto da 11 credo 11 fossero processi di mafia che gli avevano tentato in sostanza lo stesso Mori Mori viene defenestrato messo in pensione come premio eccetera eccetera e Alfredo Cucco diventa vice segretario nazionale del partito nazionale fascista e fino a alla Repubblica di Salò combatté insieme a chi? al consuocero uno dei personaggi di cui si parla qui che alloggiavano al Canal Grande dove gli andarono a trovare un altro mio cugino partigiano liberale e riduce dal fronte jugoslavo sul Canal Grande Peppino Impastato? no su Peppino Impastato posso dire fu compagno di liceo di un Peppino ma non facevamo altro che osservare lui era di Terrasina e io di Partinico per cui Terrasinara per noi erano un po' quelli della provincia noi eravamo la capitale nello stesso liceo però lui già allora ricordo scandalizzava il fatto che lui fosse dal PDU mentre io a quei tempi ero il Partito Socialista ma comunque o mi avvicinavo al Partito Socialista insomma poi il PDU a quei tempi era il partito che nasce dall'accessione del Partito Socialista che va al governo ma niente dicevamo semplicemente quello che si vedeva che era chiaro che ci scandalizzava noi ragazzi di quell'età che con i pantaloni corti frequentavamo i consigli comunali e vedevamo queste vergogne la situazione più scandalosa in assoluto che hai visto in questa tua lunga storia di ricerca e di esperienza umana ma niente io rappresentavo semplicemente quello che succedeva solo che il mio vizio non essendo un giornalista di regime nemmeno professionista non avevo paura di essere licenziato come te un professore di liceo potevo permettermi di fare accostamenti che poi mi rimproveravano ma tu non fai il giornalista perché ti devi limitare a raccontare i fatti senza commentarli o senza ecco io purtroppo vedevo la fenomenologia di certe situazioni da docente se voi insomma laureato in storia e filosofia che ha insegnato una vita queste materie di ambito poi letterario su un piano anche della cultura internazionale vedere il rapporto che poi sono quelli anche della fenomenologia dello spirito tu vedi lo sviluppo di certe situazioni non puoi limitarti a raccontare la cronaca per paura di essere querelato l'altizio che vede un accostamento quante querele beh solo dei parenti di Sino quattro due furono unificate questa che si concluse poi con la soluzione le altre tutte per proscioglimento poi qualche altra che neanche tengo in considerazione perché per dire furono archiviate senza che me ne fu data poi notizia però sapevo che c'era la querela ma non mi preoccupa guarda fino a quando non ci fu il famoso codice il cosiddetto codice di autorregolamentazione del giornalista che in realtà non è un codice di autorregolamentazione l'ha istituito la cassazione secondo me abusando di poteri ne ho parlato con il mio avvocato dice no no perché questa è giurisprudenza ma come si fa a chiamare codice di autorregolamentazione fino a quando non esce questo codice di autorregolamentazione il cosiddetto decalogo del giornalista varato da una corte di cassazione che vuole sapere ma che cosa accenda se ci sono le leggi sulla stampa che ti stabilisce tutta una serie non c'erano grossi problemi nel raccontare le vicende da quando uscì questo decalogo del giornalista tutti i giornalisti si mesero la coda è guai a toccare qualunque cosa che non fosse strettamente connessa a quello che ti dicono i magistrati quale intervista ti è rimasta nell'animo come un'intervista vera di anima di sostanza la mamma a mamma Felicia e a giudice Caponnetto è un'intervista pure a Danilo Dolci che mi dispiace che TV7 partino in quel tempo e c'erano tutte quelle cassette poi si riciclavano si facevano non ci sono più io credo che sarebbero dei classici anche di giornalismo sia perché mamma Felicia fu io il primo a intervistarla quando ancora i giornalisti avevano paura di affrontare il problema perché Peppino e il suo padre era mafioso ma qui è l'atto di coraggio come Giovanni Falcone e Borsellino hanno il coraggio di vedere la mafia in quei magistrati voglio ricordare anche il giudice Costa che viene ucciso che viene ucciso dopo avere firmato un ordine di arresto per una decina più di una decina dei più grandi capi mafia di Palermo dopo che tutti i sostituti a quei tempi tra l'altro non si chiamano sostituti a quei tempi nemmeno si chiamava la procura nazionale antimafia è giusto ebbene viene ucciso dopo che tutti i oggi sono pubblici ministeri si rifiutano di firmare quelle cose lì ebbene un'altra delle cose insomma che vi ha dato dire insomma che qualcuno di questi è arrivato pure a vestire la procura nazionale antimafia e particolarmente quello che per prima gli disse firmatelo tu in interviste come questa una frase o qualche frase che ti è rimasta chiara in mente che ti ha spalancato riflessioni no guarda io ho sempre detto delle cose banali banalissime alla luce del sole semmai per esempio c'è una parola che mi ha scritto Maria Falcone quando io sottoposi questi che volevo scrivere e che poi ho pubblicato in varie sezioni e mi disse questa tua ricerca continua in questa tua ricerca della verità dopo che ci incontrammo tra l'altro qui a Roma dove io concluse la mia carriera scolastica essendo imputato ero imputato e allora parlavo a Maria Falcone e gli chiese ma che ne pensi di Galasso qui non voglio dire quello che mi disse però lei mi invitò a proseguire io gli mandai in anteprima i miei pamphlet lei me li ha provati continuiamo a sentirci così come con Salvatore Borsellino che era là quando poco dopo che tu mi intervistasti ci facevamo la solita chiacchierata e poco dopo Scarpinato fece il suo intervento e per aver detto quelle cose che chaggiavano quello che io gli avevo scritto come dedica fu sottoposto al procedimento disciplinare qui abbiamo i magistrati che ci testimoniano i magistrati come Scarpinato Falcone Borsellino io direi Pignatone che ci testimoniano che c'è una corruzione nella magistratura che ora cerca di far fuori Pignatone o screditare Pignatone dopo che va in pensione dicendo che i Casamonica non sono una mafia una cosca mafiosa forse una delle più potenti secondo me che vengo da Palermo a Roma e ho visto abitando in certe zone di Roma è quello che abbiamo visto poi tutti pure con l'elicottero che non sono una mafia per chiudere dalla scuola dalla scuola alla scuola la scuola ovviamente è una palestra importante dove far calare quelli che sono i temi della legalità del rispetto della legalità e allora qui Enrico mi viene in mente Salvatore Borsellino che si sta impegnando ed altri Chinnici che teneva le sue conferenze e io ero commissario a Palermo alla maturità quando Chinnici fu ucciso a pochi passi dove io ero commissario in un liceo non ricordo se era il Meli o un Vettore Emanuele credo il Meli incredibile la lezione di Chinnici io che poi sono stato molto amico di Daniela Chinnici segretaria che io fece leggere io ero nella segreteria provinciale del partito dei comunisti italiani con Daniela Chinnici sono di quelle figure che ci hanno insegnato veramente tutto antelitteram prima ancora che certe cose vorrei solo dire che a parte Enrico le battaglie contro l'inquinamento dal mare colore del virus soprattutto la puzza della volta stomaco simile a quella di Melille e Priolo e su cui c'è padre Prisutto che è particolarmente impegnato a denunciare anche le malattie genetiche che portano con tutto quello che causano comprese le malformazioni neonatali ebbene a parte Enrico un paese pieno di malattie di un certo genere non siamo riusciti a ottenere il registro dei tumori fino ad oggi questa è la vera mafia la vera mafia io dico che è nello Stato non che tutto lo Stato è mafia perché per fortuna io posso dire che almeno il 50% dei magistrati mi hanno onorato dal loro operato consentendomi di pubblicare questi libri ma sull'altro 50% dei magistrati io non ci metterei la firma rimanendo a scuola l'educazione civica così dimenticata così obbligata oggi si parla finalmente di rimetterla in campo ma insomma come è stato possibile io ero uno dei pochi professori ricordo che faceva il programma di educazione civica perché ero anche docente italiano latino storia e per lo più nel biennio ricordo che gli studenti delle scuole di Partinico erano con noi in massa due studenti del mio liceo per esempio furono sottratti alle grimpie dei poliziotti nella cui camionetta la cugina di Sino andava in tribunale dopo aver querelato l'emittente televisiva che io non facevo più il giornalista perché ero sotto processo e la preferì non fare più il giornalista che aveva chiesto che venisse condannata a teleiato di Pino Maniaci per avere raccontato dei fatti non solo per aver raccontato dei fatti addirittura semplicemente aveva chiesto un decreto di divieto di divieto all'emittente di parlare della vicenda Bertolino cioè di questo inquinamento terribile fino a quando non si chiarivano diceva lei certe cose perché era pure indagata eccetera eccetera e il giudice rispose semplicemente ma qui è come se mi chiedessi la reintroduzione della censura preventiva cioè siamo arrivati al punto che dei magistrati ci devono difendere anche da pretese che qualcuno i poteri forti fanno di reintroduzione a censura preventiva e probabilmente qualche altro magistrato gli avrebbe consentito e i nostri studenti che erano a parte in prima fila in quelle battaglie e che protestavano contro questo fatto qui questa tizia che doveva arrivare in tribunale escoltata nella caserma dei carabinieri perché c'era il paese in rivolta e allora l'educazione civica nella scuola progetti di educazione alla legalità per creare nuove consapevolezze nei giovani Enrico Somma giornalista senza giacca e cravatta ci sta mettendo del suo attraverso dei libri attraverso un impegno quotidiano e allora qual è il tuo auspicio per chiudere rivolgiti ai nostri telespettatori ma io spero che finalmente qualche giornalista della RAI mi dia spazio perché vorrei capire come mai intervistano continuamente l'avvocato Galasso quello che attaccava Falcone alla vigilia delle stragi insieme a Orlando su fatti in cui tra l'altro io denuncio diciamo che l'avvocato del ministro dei lavori pubblici della mafia continua ad esserlo tra l'altro io riuscii a trascenarlo davanti al giudice in cui ero io parte offesa per calunnia e lui venne lì a dire ma io non sono più l'avvocato della cognata di Sino cioè da Bertolino però è ancora l'avvocato di Sino a te a te non ti chiamano per interviste nei canali forti della comunicazione italiana sì io spero che questo giornalismo di regime possa trovare oggi finalmente insomma in qualche modo un momento di vergogna o di maggiore coraggio nel raccontare fatti che nessuno osa io sono quello che su queste questioni ha avuto il coraggio di dire semplicemente quello che alla vista di tutti che il re è nudo e che nessun giornalista di regime osa semplicemente trattare perché guardate un giornalista invece di questi importanti più importanti ha presentato come Giuseppe Lobbianco i miei libri a Palermo i miei primi due a Palermo nella biblioteca Camaione con una presentazione che mi onora naturalmente prendendo le distanze ed è giusto essere sempre critici su certe questioni ma lui mi conobbe quando io collaboravo con l'Ora l'Ora che era il giornale in cui però era vietato pure parlare di certe cose e in cui anch'io ebbi i miei momenti di attrito insomma in quel periodo fino a quando fu chiusa l'Ora perché fu chiusa l'Ora e anche lì è un punto interrogativo scomparvero i finanziamenti e soprattutto forse fu lo stesso partito comunista che non volve la sopravvivenza di quell'eroe con il giornale ahimè e venne l'ora di chiudere l'ora e allora la domanda è questa quale comunicazione Enrico Somma è uno che ci mette la faccia che ci mette l'impegno che dice la sua verità e che chiede di confrontarla e di confrontarsi il dovere e la mission della comunicazione è quella di cercare insieme attraverso il dialogo attraverso un confronto aperto la verità quelle verità processuali che spesso sono libri scritti nelle aule del tribunale e poco hanno a che fare con la verità effettuale grazie grazie di cuore Enrico Somma grazie a te prima di tutto e a questa mi tende a rete zero che altre volte mi ha onorato dallo spazio che mi ha concesso grazie a te